Ormai non c'è capodanno senza l'annuncio dei rincari dei pedaggi autostradali, aumenti che interessano anche l'Abruzzo, più 1,62% sulla A24 e sulla A25 gestite dalla Società Autostrada dei Parchi e più 0,64% per l'A14 gestita da Autostrade per l'Italia. Per quest'ultima si tratta di un aumento leggermente al di sotto della media nazionale che si attesta allo 0,77%, più del doppio invece l'aumento deciso da Autostrada dei Parchi e avallato come gli altri del resto dal Ministero dei Trasporti, secondo il quale l'aggiornamento delle tariffe deriva dall'applicazione di quanto previsto nelle convenzioni stipulate nel 2007 che hanno stabilito le formule tariffarie e i criteri di calcolo. Ma proprio da questi criteri di calcolo l'Abruzzo esce svantaggiato rispetto alle altre regioni d'Italia, complice la particolare orografia del territorio e il fatto che l'arteria verso Roma attraversa tutto l'entroterra montano. I nuovi rincari delle tariffe preoccupano soprattutto coloro che per lavoro sono costretti a percorrere le autostrade regionali, pendolari, autotrasportatori ed aziende che spostano le proprie merci su gomma. Sulle barricate la Confcommercio Abruzzo con il direttore Celso Cioni che annuncia una class action contro aumenti che definisce penalizzanti per il sistema economico regionale. Cioni se la prende anche con le istituzioni abruzzesi colpevoli di accettare passivamente gli aumenti dei pedaggi ed invita il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, a convocare un tavolo tecnico per capire come invertire la tendenza che da anni vede balzare in avanti il costo di percorrenza delle autostrade, dal 2012 al 2015 un aumento di oltre il 25%. Si prevedono quindi iniziative di protesta da parte delle associazioni di categoria con Confartigianato che sottolinea come il costo per chilometro in Abruzzo sia tra i più alti d'Italia. Non ha sortito effetto nemmeno l'iniziativa di Gianni Melilla, deputato di Sinistra Italiana, che aveva chiesto al Ministero dei Trasporti una moratoria nazionale sugli aumenti per il 2017.